La rassegna tesori dell'artigianato in banca mira a portare l'eccellenza artistica in luoghi non convenzionali, come gli spazi di un istituto bancario ospitato in strutture architettoniche rilevanti e significative e trasformarli in una vera e propria galleria d'arte temporanea, rivolta a un pubblico ampio e variegato. L'iniziativa vedrà coinvolte cinque realtà artigiane pugliesi, dal maestro Liutaio Antonio Dattis, specializzato nelle riproduzioni di strumenti a corda medievali e rinascimentali, al ceramista Antonio Vestita, ceramista della bottega Vestita di Grottaglie. Dalla maestra cartapestaia di Lecce Stefania Guarascio, all'artigiana del vetro di Brindisi, Maria Concetta Malorzo, che girando nei santuari dell'arte di Mezzomondo ha maturato un proprio stile e una propria creatività innovativa. E infine il centro di iconografia bizantina della CNA Puglia, che muove i primi passi verso il consolidamento dell'attività formativa in un settore tanto importante quanto poco noto della storia e della creatività, oltre che della religiosità della Puglia. Dopo la tappa di Bari, tesori dell'artigianato in banca si replicherà nelle sedi di istituti bancari di altre città della regione e del territorio nazionale, coinvolgendo altri artisti italiani che esporranno i propri tesori. La mostra è visitabile fino al 21 luglio.